amy devi mangiare la pasta amy non mangiare questi hamburger perché? perché questa schifezza non si mangia amy basta con questi hamburghi adesso butto via tutto basta hamburghi anche qua c'è uno dove prende tutti questi hamburghi? anche qua non è male che Oscar anche qua? quanti sono? adesso si butta tutto lì anche qua? speriamo che ultimo via! qua sta! adesso vi faccio vedere tutto schiaccio ciao! 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 ciao!